Allora, io sono Manuela Pizzi, vengo dalla Spagna, anche se il mio origine è di Reggio Calabria e ho cominciato a viaggiare qui in Italia perché tutti mi chiedevano ma tu lo parli l'italiano? E dicevo tutte le volte no. E in questo caso ho cominciato a viaggiare anche sulle realtà perché mi piace, anche da quando ero molto piccina, lo sentivo già dentro di me che il consumo non era ecuo per l'ambiente. Dopo cinque anni di viaggio ho deciso di fermarmi a Cavi, che è il podere dove abitiamo, dell'ecovillaggio Raiz. Mi piaceva tanto l'energia che c'era in questo posto, anche potrei dire che mi sento molto aperta e libera di esprimermi in quel posto e che ci sono tanti progetti che vedo possibili in quella realtà. Ho imparato a tagliare la legna, il bosco, gli olibi, anche con gli animali e a vivere un po' di armonia in natura e allontanati da tanti mezzi che ci limitano più che ci aiutano a sopravvivere in questo pianeta.